L'Abruzzo potrebbe perdere 8 milioni di euro del piano protegge Italia destinati al dissesto idrogeologico, al risanamento ambientale, alla tutela del suolo. Il termine per accedere a questi fondi era il 30 settembre, poi prorogato a fine ottobre. Di fatto ci siamo, se entro il 31 di questo mese la Regione non avrà presentato i progetti in maniera adeguata, naturalmente idonei e finanziabili, l'Abruzzo perderà appunto 8 milioni di euro a vantaggio delle altre Regioni. Il Vice Presidente della Terza Commissione Attività Produttive di Regione Abruzzo, Giorgio Fedele. Oggi torniamo a parlare nuovamente di fondi assegnati all'Abruzzo che questa maggioranza non è in grado di spendere. La Regione Abruzzo non ha presentato ad oggi a quello che mi è noto progetti. Il Consorzio di Bonifica Ovest lo ha fatto, un progetto di manutenzione straordinaria, la prima dopo la creazione della canalizzazione a Fucino da parte di Torlonia, che andrebbe a mitigare grandemente i problemi di allagamento e i danni che annualmente di questo periodo l'agricoltura è costretta a subire. Ad oggi non ci sono novità? No, ad oggi io l'accesso agli atti, le informazioni che ho chiesto al Dipartimento e alla Presidenza non mi sono state date, la Regione non ha risposto al mio accesso agli atti, quello che solo so per le interlocuzioni fatte a livello ministeriale e con Casa Italia. I tempi quindi sono risicati, ma c'è una soluzione? Sì, la soluzione è innanzitutto di fare una ricognizione in funzione di quelli che sono gli enti che già hanno presentato dei progetti. In secondo luogo accelerare i tempi con i comuni, dare la massima disponibilità anche in termini di supporto amministrativo nei confronti dei comuni che molto spesso sono abbandonati. La Regione da quello che so ha preparato un foglio con una tabellina da riempire, questo è il massimo supporto amministrativo dato ai comuni che lo devono sfruttare nell'arco di dieci giorni. Quando la Regione aveva tempo da giugno ad oggi, tempo buttato, sprecato in polemiche sterili.